Celebrata domenica scorsa al Teatro Sociale di Sondrio la 28esima giornata provinciale dell'artigianato, un'occasione per mettere in risalto i valori dell'artigianato, che negli anni ha assunto sempre più il significato di un evento dedicato alle eccellenze aziendali. Durante la manifestazione premiate le aziende e gli imprenditori locali, realtà spesso invisibili ma che rappresentano un capitale umano e culturale. C'è un mondo che cambia completamente, le azioni di sostegno ai sistemi produttivi sono sempre più pensate e indirizzate a misura delle imprese più grandi. Certamente le attese sono quelle che ci si riconosca effettivamente l'importanza di essere attori all'interno di un territorio molto fragile, per cui questa forse è la particolarità sulla quale chiediamo a tutti di poter sostenere chiaramente una provincia montana come quella di Sondrio. Il fattore più importante in questo momento è che se non si vada con gli slogan, andando a cercare assolutamente caccia al colpevole o caccia all'evasore, probabilmente forse bisogna essere più coerenti sul fatto che lo Stato non deve essere soltanto forte con i deboli e deboli con i forti, ma deve dare dimostrazione effettivamente che se vuole cercare l'evasione la vada a cercare dove esattamente c'è. Ogni piccolo imprenditore che ha ancora il coraggio di mettersi in gioco deve essere consapevole dei rischi di cui va incontro e quanto emerso dal dibattito. In questo momento, dicono gli artigiani, in provincia abbiamo infrastrutture con cui diventa complicato poter operare. Le aziende stanno valutando l'ipotesi di spostarsi, in quanto sono troppi chilometri di distanza dalle arterie più importanti. La richiesta è di porre attenzione alle infrastrutture stradali e ferroviarie per permettere il passaggio generazionale nelle imprese. Accanto agli artigiani presenti i rappresentanti di enti e istituzioni. Una realtà produttiva che denota capacità imprenditoriali, innovazione, veramente la categoria degli artigiani è una categoria di rilievo in tutta la provincia. La nostra terra è dura ma proprio per questo ha forgiato dei caratteri e dei modi di lavorare che sono da esempio in tutta la Lombardia e in tutta l'Italia. Quindi questo è un modo anche per dire grazie a tutti i nostri artigiani che fanno belle le cose della nostra terra ed elevano la società del nostro territorio. Il BIM è da anni che aiuta appunto con Fartigianato per tutto quello che riguarda la formazione con un contributo affinché possa in qualche modo raggiungere quelle che sono le necessità di formazione dei nostri imprenditori locali al fine di essere sempre un po' sul pezzo, di essere sempre pronti per gareggiare in questo mercato, in questo mondo produttivo che nella macroeconomia rischia di fagocitarci. Gli infortuni continuano a crescere, fortunatamente quest'anno possiamo dire che ad oggi non abbiamo conoscenza almeno di infortuni mortali se non altro quello. Si cerca di fare il possibile, le aziende stanno lavorando, gli artigiani ritengono che siano molto sensibili, lo dimostrano nella partecipazione al progetto delle scuole e lo dimostrano perché soprattutto lavorano a stretto contatto con i loro collaboratori.